La prossima Serie B aprirà i battenti con l'Open Day di venerdì 25 agosto e la stagione regolare si chiuderà venerdì 18 maggio 2018. Lo ha stabilito l'Assemblea di Lega di Serie B che si è riunita ieri a Milano. Definite anche le date dei quattro turni infrasettimanali fissati sempre al martedì per il 19 settembre, 24 ottobre, 27 febbraio e 17 aprile. Confermata anche la partnership con Conte.it che darà ancora il nome al campionato cadetto. Il Pescara vuole farsi trovare pronto per l'avvio del torneo e Zeman ha fatto intendere di voler gran parte dell'organico definito per l'avvio del ritiro il 10 luglio quando i biancazzurri inizieranno a sudare in quel di Rivi Sondoli così da poter inculcare subito i suoi concetti di gioco e mettere nelle gambe dei calciatori il massimo della benzina possibile per affrontare la stagione. Sul fronte centroavanti dopo la suggestione Federico Dionisi si torna a parlare con insistenza di Simone Andrea Gans. Il centroavanti di proprietà della Juventus aspetta l'anno della consacrazione dopo la stagione alle spalle di Pazzini quest'anno a Verona con quattro gole all'attivo. Il figlio di Maurizio Gans potrebbe arrivare nell'ambito della trattativa avviata con la Juventus per Mamadou Koulibaly che può riprendere dopo la finale di Champions League. Gans potrebbe arrivare in rival adriatico in prestito. In caso di pronto ritorno in Serie A il Pescara avrà l'obbligo di riscatto per una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro. Se ne riparlerà nell'incontro che nei prossimi giorni il presidente Daniele Sebastiani avrà con il club bianconero. Un tavolo nel quale il Pescara potrebbe avanzare anche altre richieste come quelle dei centrocampisti Mattia Vitale, ex Lanciano, e Simone Muratore, pilastro della primavera di Fabio Grosso. Su Gans il Pescara cercherà di non aspettare, visto che sull'ex Lariano ci sono anche il neopromosso Foggia, Lascoli e il Perugia. Intanto il Mondiale Under 20 mette in vetrina dei gioiellini già adocchiati dal Pescara e decisivi nel quarto di finale vinto con lo Zambia, con la rete risolutiva di Luca Vido, che il Pescara vorrebbe dal Milan assieme al centrocampista Pessina. In gol ha anche l'esterno Di Marco, di proprietà dell'Inter, ma in questo caso la concorrenza per il Pescara è spietata, visto che tanti club di A sono sul giocatore reduce dalla stagione ad Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Cagliari e le neopromosse Spal e Verona. Gol azzurro anche per Orsolini, che piace tanto, ma che la Juventus potrebbe girare ad un'altra squadra di Serie A.